La verità è che non c'è nessuno là fuori. Dove vai? Magari prima avevamo ogni cosa possibile, ma non eravamo felici. Madre, è tutto a posto. Certo. Comincia a spaventarmi. Alma. Tranquilla. Qual è la prima regola? Non uscire di giorno. Apri la porta, ti prego! Questa sei tu e questa sono io. Fa così perché è preoccupata per noi. Adesso non posso proteggerti più.